Allora Nicola, è appena finita la tua sessione, dimmi giusto in due parole, cosa ne pensi? Ma è fantastico veramente, sembra veramente di stare in macchina, senti tutte le sensazioni che ti trasmette il circuito, dal cordolo alla minima buca, è fantastico veramente, è molto preciso e ne vale veramente la pena. Grazie.